E' in concomitanza con il Festival di Antropologia del Contemporaneo Dialoghi sull'Uomo che la Fondazione Cassa di Risparmio di Pistoia e Pescia apre al pubblico la propria collezione arte pistoiese attraverso i secoli. Sabato e domenica le sale espositive di Palazzo De Rossi, sede della Fondazione, effettuano eccezionalmente apertura al pubblico con accesso gratuito dalle ore 10.30 di mattina alle ore 19.30 del pomeriggio. La Fondazione, che periodicamente offre questa opportunità di visitare i suoi spazi espositivi, conserva una collezione rappresentativa delle maggiori espressioni artistiche che si sono sviluppate a pistoia nel corso dei secoli, spaziando dall'arte medievale moderna fino a quella contemporanea, con opere, tra gli altri, di Marino Marini, Mario Nigro, Umberto Buscioni, Adolfo Natalini, Gianni Ruffi e Roberto Barni. Nei weekend, dunque, è offerta a partecipanti o meno ai dialoghi sull'uomo un'occasione unica per visitare la collezione e il nuovo allestimento recentemente arricchito da tre opere mai esposte prima, San Francesco di Salche Predica di Lazzaro Baldi, opera datata a fine XVII secolo, ritratto di Pio VII di Teodoro Matteini, risalente a circa il 1805, entrambe nuove acquisizioni, e il retratto di Gentiluomo di Francesco Chiappelli, opera del 1910, di cui si è appena concluso il restauro. In occasione di dialoghi sull'uomo si apre anche la collezione della Fondazione Caripit, tra l'altro di recente sono state acquisite anche delle nuove opere. Sì, la presenza dei dialoghi in città e quindi la presenza di tante persone, sia che vengono da fuori, sia di Pistoiesi, è un'occasione da non perdere, è un'occasione per far vedere queste cose e in più, come già diceva lei, è proprio un'occasione in più, c'è un'occasione in più forte perché volta a volta la collezione si rinnova, si aggiorna, si modifica leggermente, quindi anche per chi l'ha già visitata ci sono motivi per un ritorno. Che periodi attraversano queste opere? I periodi sono sostanzialmente, è tutto l'arco delle vicende, delle arti figurative conosciute, cioè sostanzialmente dalla fine del Medioevo fino ai giorni nostri, insomma, dal 300, l'opera più antica risale al 1300 e le opere più moderne arrivano ai giorni nostri.